signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale e negli scorsi video abbiamo fatto tutto un discorso su quali sono gli archetipi dei personaggi che girano attorno al gruppo dei pg all'interno di una quest di una campagna abbiamo visto prima gli archetipi e gli alleati poi gli antetipi per gli antagonisti ma resta ancora un gruppo importante di personaggi da cui dipenderanno le sorti dei personaggi giocanti stiamo ovviamente parlando dei giocatori le cui decisioni influiranno direttamente quello che sarà il comportamento dei personaggi giocanti all'interno di una quest e di conseguenza l'andamento dell'intera storia tipi diversi di giocatori influiranno in maniera diversa le vostre sessioni quindi non perdiamo altro tempo questa settimana andiamo a parlare degli archetipi dei giocatori e quindi di timmi johnny e spike ora nel corso degli anni ho visto tantissimi metodi pensati per classificare il comportamento dei giocatori di ruoli alcuni fatti in maniera seriosa li trovate anche sui manuali ufficiali di alcuni giochi altri fatti più sul ridere probabilmente se cercate qui su internet troverete a dozzine di classificazioni del genere francamente però nessuno di questi metodi di classificazione mi hai convinto così tanto perché vanno tutti a concentrarsi su quello che poi è il comportamento dei giocatori al tavolo c'è il giocatore attore vuole recitare in prima persona il suo personaggio il giocatore tattico che vuole muovere miniature sulla plancia ora a differenza degli archetipi dei personaggi di cui abbiamo discusso nell'ultimo mese qui stiamo parlando di persone e le persone vere sono ovviamente infinitamente complesse e le loro azioni non sono guidate da un guizzo della personalità o da una gimmick che serve a distinguere il loro personaggio sono a loro volta un insieme molto vasto di caratteristiche decisioni e influenze quindi classificare i giocatori semplicemente per come si comportano una volta arrivato al tavolo mi sembra riduttivo esiste però un altro metodo di caratterizzazione che non è quello di andare a vedere il comportamento ma quali sono le pulsioni che portano la gente a un tavolo da gioco e come queste pulsioni vengono soddisfatte nel gioco stesso anche di questo ci sono vari modelli noi oggi parleremo in particolare di un modello che è stato sviluppato originariamente per i giocatori di magic ma che in realtà si adatta molto bene anche ai giocatori di ruolo e a quelle di tantissimi altri giochi da tavolo immagino a questo punto bisognerà spiegare il perché del titolo di questo video quindi questa settimana andiamo a parlare dei tre profili psicografici fondamentali o meglio di timmy johnny e spike e il nostro primo profilo sarà quello di timmy timmy è quel giocatore che prova eccitazione e adrenalina nel fare la cosa quando timmy fa la cosa è focalizzato non è importante che la cosa sia positiva negativa né che abbia senso o non abbia senso non è neanche importante cosa sia la cosa la cosa è quello che piace fare a timmy ed è quello che lo fa sentire realizzato quasi sempre timmy è attratto da quello che ritiene essere l'elemento più spettacolare o più esaltante del gioco a cui state giocando ovviamente timmy diversi potrebbero avere opinioni molto diverse su che cosa sia questo aspetto timmy potrebbe voler essere quello con le armi più grosse che fanno più danni tutti gli altri come potrebbe essere quello che vuole recitare la commoventissima scena drammatica che verrà scolpita nella memoria di tutti timmy potrebbe volere che l'intera quest sia la più cupa e orrorifica possibile che ogni scena sia un delirio di follia come potrebbe al contrario volere che l'intera quest sia un'opera buffa dove non si fa altro che ridere spesso a timmy non interessa neanche la coerenza di quello che sta succedendo in scena fin tanto che la storia gli permetta di fare la sua cosa il più spesso e volentieri possibile timmy probabilmente non avrebbe problemi se il suo personaggio morisse o se la quest durasse tre sessioni e poi esplodesse fin tanto che nel periodo in cui lui ha giocato ha potuto fare quello che a lui interessava diciamo che per questo motivo è molto facile rendere felice timmy fin tanto che gli si lascia fare la cosa il più spesso e volentieri possibile lui giocherà sereno e tranquillo il problema con timmy però è che essendo ossessionato da quello che lui ritiene essere la cosa più interessante da fare non è particolarmente interessato al divertimento degli altri giocatori né a tutte le altre strutture del gioco che per lui sono solo un ostacolo che allontana da sé la possibilità di fare la cosa e quindi potrebbe non essere molto bravo in squadra con il resto del party o non molto collaborativo nei confronti del master il nostro secondo profilo è quello di johnny johnny è al tavolo per esprimere se stesso e vede il gioco di ruolo come un'opportunità per soddisfare la sua esigenza creativa e di comunicazione potrebbe soddisfare la sua necessità di espressione personale giocando un personaggio particolarmente sui generis o magari un personaggio per cui vi ha presentato un retroscena di 40 pagine o magari potrebbe interessarsi da molti degli aspetti narrativi del gioco redigendo una fittissima cronaca dalla campagna e dando interpretazioni sulle azioni dei personaggi degli altri johnny potrebbe disegnare i personaggi del party o disegnare scene avvenute durante la quest per scrivere opere portare canzoni ma in realtà non necessariamente johnny potrebbe esprimere la sua esigenza creativa non in maniera canonicamente considerata artistica ma all'interno del framework stesso del gioco johnny potrebbe essere proprio interessato alle regole il funzionamento le possibili combinazioni magari johnny porterà al tavolo un personaggio con combinazioni di abilità talenti particolari build estremamente focalizzate nel fare qualcosa probabilmente il miglior modo per mettere in moto un johnny come questo e dirgli che qualcosa all'interno del gioco non si può fare e poi vederlo arrivare la settimana dopo che si è spulciato 40 manuali ma ha trovato un modo per poter fare quella cosa all'interno del gioco il vantaggio di avere johnny al tavolo è che voi non dovete fare assolutamente nulla come master per rendere johnny felice johnny si renderà felice da solo lui soddisferà la sua esigenza creativa lui si divertirà a creare personaggi macchiavellici già solo il fatto che voi state portando al tavolo una quest e tutto quello a cui serve a johnny per poter mettersi in moto da solo e soddisfare le sue esigenze potrebbe rivelarsi un enorme risorsa perché probabilmente produrrà materiale aggiuntivo analisi sulle regole analisi sul comportamento dei personaggi se si riesce a focalizzare johnny verso un aspetto importante del gioco potrebbe fornire supporto a tutto il resto del tavolo d'altra parte potrebbe per gli stessi motivi diventare un elemento di disturbo di contrasto sia per voi come master che per gli altri giocatori dato che johnny vede la quest come modo per esprimere se stesso quindi lui potrebbe portare un personaggio che per lui è molto divertente perché ha una build particolare magari quella build sarà del tutto inutile agli scopi del party il suo personaggio anzi sarà quasi dannoso o potrebbe perdere un sacco di tempo per disegnare perfettamente una scena che è stata giocata ma mentre lo fa ignorerà completamente la situazione attuale e quindi non contribuerà in nessun modo a mandare avanti la storia in pratica il problema di johnny è che dato che johnny si diverte indipendentemente non è particolarmente portato a pensare al divertimento degli altri anche se potrebbe essere lui stesso una fonte di divertimento anche se questo non è il suo scopo principale mettiamola così il nostro terzo profilo sarà quello di spike spike non è lì per creare qualcosa non è lì per esaltarsi nel fare la cosa spike è lì perché ha qualcosa a dimostrare non è chiaro che cosa debba dimostrare spike che probabilmente non è chiaro neanche a spike che cosa sia quello che lui deve dimostrare ma di sicuro spike farà in modo che entro la fine della sessione tutti sappiano che lui è lì per dimostrare qualcosa se in altri contesti ludici la determinazione di spike potrebbe essere anche vista come qualcosa di assolutamente normale magari anche positivo spike è esattamente il tipo di persona che volete come compagno di squadra in un torneo ecco il fatto che spike debba dimostrare qualcosa quando si parla il gioco di ruolo spike è un problema perché spike vuole vincere per alcuni spike questo è da intendersi in maniera letterale quindi se la storia non va esattamente come loro pensano debba andare e se ogni situazione non è palesemente a loro vantaggio vedranno qualsiasi colpo di scena o manovra del master come un attacco personale che cerca di impedirgli di vincere con il suo personaggio per altri quello che loro vogliono dimostrare è la loro bravura nel gioco o in particolari aspetti del gioco quindi loro dovranno essere quelli che decidono le azioni non solo del suo personaggio ma di tutti gli altri e se gli altri giocatori non giocano esattamente nella maniera che spike ritiene essere quella migliore lo fanno perché sono invidiosi e non vogliono riconoscere la sua manifesta superiorità al tavolo da gioco la necessità di primeggiare di spike va a discapito non solo della creatività e dell'intrattenimento degli altri al tavolo ma anche di spike stesso perché cercare di primeggiare di vincere in un contesto come quello del gioco di ruolo in cui non esiste una condizione di vittoria è di per sé un'esperienza frustrante molto spesso spike rientra nel macro gruppo dei giocatori problematici ma a differenza di altri problemi che abbiamo parlato in altri video questo non può essere risolto a parole perché spike non sta semplicemente tenendo un comportamento sbagliato anzi magari lui potrebbe essere una persona gentilissima e non causare problemi materialmente al gruppo ma semplicemente se lui vuole dimostrare qualcosa il gioco di ruolo non è qualcosa che fa per lui e gli dovrebbe essere detto chiaramente perché non farà altro che annoiarsi a un tavolo da gioco nonostante questo però molti spike riescono a sopprimere il loro istinto di prevaricazione e per quanto la loro gratificazione sia proprio nel cercare l'eccellenza riescono a essere estremamente collaborativi e cercano di innalzare il livello di gioco di tutto il tavolo gli spike illuminati se vogliamo chiamarli così sono potenzialmente dei grandi giocatori estremamente competenti che possono fare da mentore per tutti gli altri giocatori e magari potenzialmente diventare anche degli ottimi master appunto perché hanno una pulsione naturale a essere il migliore con le regole il migliore in qualsiasi aspetto del gioco questi tre profili psicografici ovviamente non sono mutualmente esclusivi anzi per quanto vengano rappresentati da questi tre personaggi iconici allegorici ognuno di noi in momenti diversi e in situazioni diverse esprime una di queste tre tendenze alcune persone sono particolarmente focalizzate all'interno di uno di questi tre aspetti ma in realtà in un modo o nell'altro sono tre comportamenti che tutti prima o poi hanno tenuto al tavolo voi come master ovviamente non potete fare niente con questi archetipi non sono personaggi, le persone si comportano come vogliono comportarsi ci mancherebbe altro però sapere l'esistenza di queste tre tendenze e magari valutare il comportamento della gente al tavolo all'interno di questo tipo di framework potrebbe aiutarvi a capire cos'è che effettivamente un giocatore vuole che cosa lo entusiasma del gioco di ruolo e agire quindi per rendere le cose più piacevoli per quel giocatore o potenzialmente non incoraggiando quel tipo di comportamento se potrebbe portare disturbo al vostro tavolo anche in questo caso parlate tra di voi e vedete che cosa volete per la vostra campagna un gruppo di quattro spy che potrebbe andare perfettamente d'accordo ed essere uno dei quarti più efficienti del mondo come potrebbe essere un gruppo che si sfascia dopo due sessioni perché tutti vogliono avere ragione molto spesso i Johnny e i Timmy non si sopportano tra di loro perché i Timmy ritengono i Johnny inutalmente snobbe complessi e i Johnny ritengono i Timmy infantili e non focalizzati però se si mettono a lavorare assieme Timmy potrebbe diventare la musa di Johnny valutate che cosa volete voi per la vostra quest e agite di conseguenza comunque diciamo che per questo video è già durato fin troppo adesso la parola sta a voi ditemi se conoscevate questo metodo se l'avete scoperto adesso magari avevate giocatori di Magic e soprattutto ditemi se mentre io parlavo avete cominciato a valutare i comportamenti dei vostri giocatori o anche di voi stessi in base a questo framework e quanto ci avete preso e quanto è effettivamente utile questo metodo come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche in descrizione trovate i link al gruppo Itelegram e al server di Discord dove si raduna la community e anche il link se volete prendere iscrivi la mia avventura il libro che ho scritto insieme a Mauro Longo tutto il ricavato di quel libro aiuta a finanziare il canale quindi se volete contribuire quello è un metodo per il resto io sono il Master CAE e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti